Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Con l'uscita di Jurassic World Il Dominio si è chiuso un lungo ciclo cinematografico, il ciclo passato prima per i film Jurassic Park e poi per quelli Jurassic World. Allo stato attuale delle cose non sappiamo se e quando verranno rilasciati nuovi film dedicati ai nostri amati dinosauri. Universal si è mantenuta alquanto vaga, sia in merito a nuove pellicole che a nuove serie animate o live action. In questo video voglio condividere con voi appassionati tre possibili idee che mi piacerebbe vedere tradotte sul piccolo e sul grande schermo, idee che andrebbero ad esplorare elementi della saga giurassica per ora rimasti sullo sfondo. La prima idea che vi propongo è secondo me quella più affascinante e quella che più di tutte vorrei vedere realizzata sotto forma di film. Da gustarsi al cinema. La spedizione della Ingen su Isla Nublar del 1994. Come tutti noi ben sappiamo, a seguito dell'incidente avvenuto a Jurassic Park nel 1993, l'isola venne completamente evacuata e posta sotto sigilli. La Ingen e il governo del Costa Rica tentarono di insabbiare il tutto, rilasciando addirittura dichiarazioni in cui si negava qualsiasi coinvolgimento della compagnia di Ammond nella creazione di specie estinte e preistoriche. Inoltre, il silenzio dei testimoni oculari venne pagato a suon di dollaroni. Ciò aggravò ulteriormente la crisi finanziaria della stessa Ingen, già provata dall'investimento Jurassic Park che non avrebbe di certo generato entrate. Ma dietro a questa facciata e alla fitta coltre di silenzi, la Ingen decise di vederci chiaro in merito a quanto accaduto su Isla Nublar, in particolare sulle cause del disastroso incidente. Per trovare delle risposte, l'unica opzione sensata era quella di inviare qualcuno direttamente in loco, per condurre una seria indagine sul campo. Inoltre, la Ingen organizzò anche il progressivo smantellamento di alcune strutture del parco, forse sempre nell'ottica di insabbiare il tutto. Nel corso dell'anno 1994, diverse spedizioni raggiunsero Isla Nublar. Una di queste missioni fu guidata dal genetista Henry V e aveva l'obiettivo di catalogare le specie sopravvissute all'incidente e comprendere i meccanismi di riproduzione dei dinosauri, un tempo tutti di sesso femminile. Nel contesto di ulteriori missioni su Nublar, la Ingen visitò anche strutture del parco, inclusi il centro visitatori e i laboratori dove erano stoccati gli embrioni. Furono rinvenute tracce di sabotaggio informatico. Si trattava ovviamente di quanto rimasto delle azioni di Dennis Nedry, colui che mandò in crisi tutto il parco per la sua fame di denaro. Gli embrioni stoccati nei laboratori del parco vennero danneggiati a causa di un aumento di temperatura nei contenitori. Tutti i preziosi embrioni andarono perduti. Inoltre, una successiva inondazione spazzò via anche ciò che restava dei contenitori. Inoltre, venne anche rilevata una debole traccia di attività sismica. Gli uomini della Ingen confermarono l'ipotesi che dietro l'incidente del parco ci fosse stato un sabotaggio, ma le motivazioni rimasero oscure. L'ipotesi più plausibile, nonché vera in effetti, parlava di spionaggio industriale da parte di compagnie rivali. Durante l'esplorazione dell'isola vennero anche rinvenuti i resti di Dennis Nedry, ancora all'interno della sua jeep, là dove il dilophosauro lo aveva ucciso. È chiaro che questa vicenda, magari ulteriormente ampliata con maggiori dettagli e sequenze action, potrebbe risultare davvero molto interessante come film stand-alone, un po' sul modello di Rogue One di Star Wars. Ambientare un film nel 94 ci permetterebbe di vedere un'isla nooblar, ormai ben lontana dai fasti del Jurassic Park, con la natura che piano piano ingloba quanto costruito dall'uomo. Avrei anche in mente l'attore perfetto per fare il caposquadra della spedizione Ingen. Mi riferisco al caro Adrian Brody, che di avventure nella giungla se ne intende, visto che è stato sull'isola del Teschio e ha pure affrontato i Predator in una foresta aliena. Battute a parte, potrebbe uscirne una pellicola davvero interessante, anche perché potrebbe vedere il ritorno di diversi dinosauri iconici, come Rexy, ovviamente, ma anche i dilophosaure del primo parco, senza dimenticare quelle specie che, seppur presenti nel Jurassic Park, non ci sono state mostrate nel corso del film, come per dirne una i Sigisauro. Il secondo scenario, che potrebbe essere adeguatamente approfondito tramite un film o una miniserie, potrebbe essere quello dei primi anni del Jurassic World, dai lavori di preparazione fino alla grande inaugurazione. Nel film del 2015, infatti, noi vediamo il parco di Simon Nasrani già pienamente operativo, con tanto di attrazioni, strutture turistiche e attività da fare. Delle resto, il Jurassic World esisteva da già dieci anni nel 2015, quindi era ormai una macchina ben rodata che non aveva mai avuto particolari problemi di sicurezza con i dinosauri. Potrebbe quindi essere interessante approfondire il periodo di creazione del Jurassic World, in particolare le missioni che vennero condotte sia su Lublar che su Isla Sorna per recuperare i dinosauri ancora viventi. Nel dettaglio sarei estremamente curioso di vedere le missioni di cattura proprio nel contesto del sito B. Non è un segreto che Isla Sorna eserciti un grande fascino su di me e su tanti altri appassionati del franchise giurassico, quindi rivederla sarebbe davvero interessante. Inoltre, mostrarci le spedizioni della Masarani su Sorna, nei primi anni del 2000, potrebbe anche chiarirci uno dei più grandi misteri legati proprio al sito B. Che fine ha fatto lo spinosauro dopo gli eventi di Jurassic Park 3? Ho dedicato un video specifico a questo tema, cercando di rispondere alla domanda. Tuttavia, alcune parti della vicenda spinosauro restano oscure e poco approfondite, quindi necessitano di materiale canonico in merito. Spinosauro a parte, una serie di 4 o 5 episodi dedicati all'ascesa del Jurassic World potrebbe essere un bel vedere a mio avviso. Certo, trattandosi appunto di una serie ci sarebbe magari meno budget rispetto a un film, anche se alcune major ci stanno abituando a serie in grande stile anche sul fronte effetti visivi. Quindi, perché no? Il terzo scenario che vi propongo sta avendo particolare fortuna come rumor online, soprattutto dopo l'uscita di Jurassic World Dominion. Si tratta di una serie che approfondisca a dovere la tematica della convivenza tra umani e dinosauri. Insomma, ciò che proprio in Il Dominio è mancato. La protagonista designata sarebbe Maisie Lockwood. Del resto, chi meglio di lei potrebbe portare avanti le battaglie di Claire Dearing e quelle del retaggio dei Lockwood? Come detto poco fa, in rete circolano diversi rumor in merito all'effettiva realizzazione di questa serie. Al momento però non ci sono conferme ufficiali o ufficiose, quindi è difficile andare a confermare tali rumor. Personalmente concordo sul fatto che sarebbe il caso di mostrarci più interazioni tra dinosauri e esseri umani, un po' in tutto il pianeta. Alla fine di Dominion abbiamo visto come questa convivenza sia ancora ben lungi da una soluzione pratica, ma la strada è quella giusta. Tuttavia, se dovessi scegliere, questa serie sarebbe appunto solo la terza opzione. Venendo dopo Nublar 1994 e l'ascesa di Jurassic World. Concludo questo video con la menzione a un altro rumor che sta sempre circolando in rete con discreta insistenza, ossia la possibilità di una nuova serie animata in stile Camp Cretaceous. Insieme alla saga cinematografica, anche Camp Cretaceous è arrivato alla conclusione, dopo 5 altalenanti stagioni. Tuttavia, il finale dell'ultima season ha lasciato la porta aperta a un ritorno in azione di alcuni personaggi. I sei di Nublar, ormai cresciuti, ci vengono infatti mostrati nel contesto del Nuovo Mondo, dove uomini e dinosauri vivono per forza fianco a fianco. Quindi molti si aspettano una serie ambientata proprio in questo scenario, magari con protagonista il mitico Darius, il grande esperto di creature preistoriche. Anche qui non possiamo escludere a priori che questo progetto vedrà la luce, ma al momento non abbiamo conferme ufficiali. Insomma, ragazzi, una cosa pare chiara. Il franchise giurassico ha ancora molto da offrire, e con gli incassi ricavati dai film negli ultimi anni, dominione incluso, non credo che la Universal voglia mettere in soffitta una simile macchina da soldi. Ci sarà una pausa, ma credo che tra qualche tempo arriveranno realmente nuovi prodotti a tema Jurassic World. Quindi non ci resta che attendere. Come di consueto, sono molto curioso di sentire le vostre opinioni. Fatemi sapere quale delle tre idee che ho proposto vi intriga di più, e in generale che cosa vi piacerebbe vedere nel futuro della nostra amata saga. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace, iscriviti al canale perché non attiva la campanella. Per supportare le mie creazioni puoi usare la funzione Super Grazie o abbonamenti direttamente su YouTube, in alternativa PayPal e TP, link in descrizione. Sui social cerca Lorenzo Divus. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!